Negli europei di pallavoro, quindi di bolle femminile, il nostro paese, l'Italia, non si ferma, non si, diciamo così, placa assolutamente parlando. 3 a 0 è questo il risultato finale che l'Italia va ad incidere nei confronti, nei riguardi della Croazia, ci troviamo nei Balcani, tra virgolette. Adesso la Spagna si trova nel cortavio di finale. Dunque si tratta della quinta vittoria per 3 a 0 per l'Italia del bolle femminile, del buon CT dell'arenatore Davide Mazzanti. Contro la Croazia al palassetto di Torino infatti va in scena una capacità totale e completa e vincente che porta, ripeto, l'Italia del bolle femminile e della parabola a vincere, ripeto, contro la Croazia per 3 a 0. Sembra veramente che l'Italia del bolle non si fermi più e continui a manifestare apertamente una capacità elevata che va ad incidere risultati importanti di primo piano, di primo spicco, di marcata bellezza, di marcata fattura. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi dentro di Youtube. Iscrivetevi, mi raccomando, commentateci a tutti e una buona giornata di Areandro, narrato italiano.